Ben tornati, ben tornati, siamo live di nuovo, eccoci qua, questa transizione è stata più leggera, e non so come transizionare da... ciao Tommy, come stai? Tutto bene, tutto bene, so che tu sei di corsa però. Sì, devo andare un attimo al bagno, per cui mi oblitero un attimo, Tommy vi racconta un po' tutto quanto e mi raccomando niente gag, oggi non si fanno gag. Figurati, parlavamo prima del problema delle maratone a 40 anni, il problema fondamentale è anche la vescica, che poi parlo io, c'erano 25 e ho gli stessi problemi. Vedo un problema live in realtà, ma no ok, in realtà siamo live, siamo live. Di cosa si parla oggi? Sono curioso di vedere, secondo voi, quali sarebbero temi interessanti della settimana. Noi abbiamo visto un po' di notizie interessanti sul mondo AI, tanta roba, tanta roba al mondo AI, sia sul mondo del lavoro c'è una ricerca di Harvard Business Review, sono uscite novità su Bard, non so se dovrebbe uscire, è uscito dall'I3, ci sono stati leak dell'Xbox, quindi tanti temi, intanto temporeggio in attesa che tutti quanti premano F5 e facciano il refresh, in attesa che la vescica di Giorgio si svuoti. Sei ancora un AI o sei un burattino vero? No, con la nuova release sono diventato un burattino vero, quindi ho fatto l'upgrade, ha funzionato, hanno fatto il fine tuning, infatti se noti adesso riesco a muovermi nello spazio, posso fare avanti e indietro e non sono più un manichino. Che sta succedendo? Non è più QA? No, ho preso controllo del canale di Rip, cominceremo a fare il tablerone, quindi il podcast settimanale in cui parliamo di news nel mondo tech, con qualche gag ogni tanto, però Giorgio è dovuto andare al bagno, quindi io sto cercando di tenerlo su. Meglio Gioannesburg o la Lazio? Beh, Gioannesburg a prescindere, qualsiasi cosa che non sia la Lazio. Ecco qui, intanto arriva Giorgio. Eccoci qua. Come meglio Gioannesburg o la Lazio? Che cosa mi sono perso? Niente, niente, tu lascia fare, lascia fare, noi qui ci stiamo divertendo senza rite. Ok, ciao Tommy, ciao Tommy, bentornati ragazzi sul tablerone. Oh, mi metto le cuffie, dai, qui su Streaming è un po' più una merda il microfono. Ok? Sì, 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 sì. Metti Milinkovic al Fanta, mi sembra una scelta migliore. Rui Patevisio non si può... Sto dando consigli di Fanta Calcio, è diventato un canale di Fanta Calcio questo qui. Ci sta, ci sta, ci sta. Spinacina al forno o in padella? In padella, in padella. Ci puoi mettere pure qualcosina in più. Puoi metterci il burro e l'aglio e la salvia, fai un bel... secondo me è padella. Beh, è molto tech questa cosa qui, perché i padelli adesso le fanno anche in virtual reality, no? Sì, 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 infatti. Proce di padella, il nuovo iPhone, penso che scaldi anche, non ricordo. Sì, fa anche il caffè, come si voleva dire. C'è sempre il volume un po' bassino, effettivamente. Ho il volume un po' bassino. Che noia, che noia, è passato. Ok, l'ho sparato un po' più alto, non ho più di così, perché qua non ho i filtri magici. Facciamo così, metto il ceppone... Di nuovo. Che noia. Ah, si sente, si sente. Adesso va bene. Sente meglio? Mi abbasso un pelo anche io, così... Parlerò verso l'alto, parlerò verso l'alto. Sento così, facciamo vedere la potenza. Dobbiamo impettirci un po', questa palestra qua. Allora, cosa abbiamo preparato per oggi, Tommy? Cosa prevede il menu? Molti temi. Si torna sull'AI. Noi abbiamo cercato di stare lontani dall'AI, in realtà, il nuovo tablerone, però non se ne scappa. Questa settimana, a livello di news, veramente povera al di fuori di questo mondo. Quindi parleremo un po' di AI, come anticipavo nel pre-tablerone, da Google Bard, a ricerche AI nel mondo del lavoro. E anche leak dell'Xbox. Quindi è uscito un cerco di notizie sul futuro dell'Xbox, parleremo un po' di questo. Parleremo del mondo del delivery. Ci sono state un po' di notizie di alcune aziende che hanno fatto fundraising o sono andate pubbliche. Quindi un po' di discussioni interessanti su quale sarà il futuro di quell'industria lì. E cercheremo di evitare dei gag il più possibile. L'obiettivo di questo episodio. Assolutamente. Dobbiamo alzare il volume. L'abbiamo fatto, credo. È un po' così. Poi vedrete che poi dopo verrà alzato in post-production. Sì, sì, sì. Bene, partiamo subito da AI e mondo del lavoro. Che dici? Vai. Vediamo cosa abbiamo scoperto. Allora, intanto condivido il mio schermo. Per questa rivelazione ringraziamo una conoscenza del canale di RIP. che è stata presente al secondo episodio del Twitch Tank. Quindi Alessandro... Cioè, data pizza. Data pizza, sì. Lo stavo scrollando. Stavo scrollando il mio feed di LinkedIn. E ho visto che menzionava questo report di Harvard Business School. Ok? In collaborazione con BCG. Quindi cosa hanno fatto questi simpaticoni? Hanno chiesto a un certo numero di consulenti di BCG, se non sbaglio individual contributor, quindi non manager, ma persone che fanno servizi di consulenza, se volevano utilizzare l'AI e poi hanno misurato l'impatto dell'AI sul loro lavoro. L'hanno strutturato in maniera intelligente. Chiaramente Harvard Business School non sono scemi. Quindi la prima obiezione potrebbe essere ah, ma c'è un bias nella selezione che fai perché gente già interessata all'AI. Però in realtà no. In quel gruppo di persone interessate l'hanno divisi. Un terzo non hanno dato accesso a AI. Un altro invece ha utilizzato l'AI e basta. Un altro terzo ha utilizzato l'AI e ha ricevuto anche un overview del concetto di prompt engineering. Non so esattamente cosa fosse questo overview, però l'idea è stata un po' quella. È un paper, secondo me, abbastanza interessante. Potete trovarlo, magari poi metto il link in chat, lo metteremo anche in descrizione. Però questo ha fatto un po' il riassunto a Alessandro di quello che è stato trovato. Quindi, in più, le persone che hanno usato l'AI, hanno completato il 12% di compiti in più. Qual era il task, non ricordo, non ho capito? Erano tutta una serie di task randomizzati, diciamo così. Quindi, in generale, sembra che abbia aiutato questo tipo di aggiunta. Ma un'altra cosa interessante che ho notato è che quando, che ho notato io, che ho notato loro, quando l'AI non era in grado di risolvere i task, il risultato degli umani è stato peggiore. Degli umani che usavano l'AI. Quindi, quando vieni portato sulla cattiva strada, effettivamente non riesci a reindirizzare in maniera corretta. Faccio una metafora facile, facile. Quando cominci a usare Google Maps, poi hai spento il GPS e non sei neanche arrivare sotto casa tua. Esatto. Sì, se ti abitui a usare un tool, che è il costo principale che vedo io in questo strumento. Sì, oppure in realtà in quel caso è ancora diverso. Cioè, tu stai usando Google Maps per andare a casa tua. Google Maps ti porta magari in una strada che palesemente sai non essere quella per andare a casa tua. Però tu la segui uguale perché ormai sei abituato a dargli retta. Quindi gli dai fiducia magari cieca. Ma non lo chiamerei overfitting. È un po' diverso il concetto. Però sì, esatto. Diciamo che perdi un po' la capacità critica di... Sì, quello sembrerebbe essere un effetto. Tu hai continuato a usare nelle tue giornate lavorative AI, no? Allora, non è che ho continuato. Non è che ho avuto la mia fase di hype in cui usavo tanto a GPT. L'ho usato pochissimo. Forse un paio di volte con mia figlia per inventare storie. E quindi, raccontami GPT, raccontami la storia del gattino paperello e la natrella zoppa. E si inventava una storia. Così ho fatto un po' di cazzatine. Non l'ho mai usato per motivi seri. Certo. Non ne vado fierissimo, però non l'ho mai usato. Vabbè, penso che sia il caso per la maggior parte delle persone, in realtà. Quindi rimane il fatto che è difficile trovare use case. Bella osservazione. In GPT vale per tutti i tool. Chiaro, chiaro. Io non so coltivarmi il grano da solo. Non sono un esperto di grano. Però, ok. In che senso non sei un esperto di grano, scusa? Hai chiuso la tua società, no? Visto il video su YouTube oggi. Avrai fatto un bel po' di soldi, no? Parli del video di oggi, Tommy? Il video, sì. Ho chiuso la mia... No, hai venduto la tua azienda, quindi... Sì, sì, sì. Mi ritiro, Tommy. Il grano metaforico l'hai fatto? Sì, sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Ma mi ritiro. Ho deciso che mi ritiro. Ho deciso che mi ritiro e la grazia a cognome è chiusa. La grazia a cognome non esiste più perché il business non va. È un business che non va più. La vendita di infoprodotto, la formazione online, l'infoprodotto. Ma quando la vendita più è morto. Eh, appunto. Ma chiudo tutto. Chiudo tutto, Tommy. Ma prima di andare in pensione, lasciatemi introdurre l'ultima trovata geniale che i miei collaboratori assieme a me, il mio team, il mio team, il mio CEO, il mio team, vuol lasciare il mondo della formazione online lanciando, signore e signori, Scuola per Rippi. Signore e signori, la Scuola per Rippi chiude tutto. La prima scuola al mondo che ti insegna veramente a come fare il grano. Il grano, signori. Il grano. La Scuola per Rippi, Tommy. Scuola per Rippi.com Scuola per Rippi.com Imparerai tutto quello che c'è da sapere per fare il grano. Scrolla giù, scrolla giù. Tu sei la Scuola per Rippi? Esatto. Ecco i nemici, c'è la cavallette, la quinoa, altri animali. Cosa succede? Scuola per Rippi, oltre 60 milioni di studenti in tutta Italia. Minchia, abbastanza bella market penetration, diciamo. Tutoring face to face, 20 ore alla settimana in live cohort da 20-30 persone. Ok, è un bel numero. Qualche volta anche 50 quando... Vabbè, più persone da conoscere con cui fare... Poi restate qui, ragazzi, che fra un po' arriva l'Operazione Coniglio, ragazzi. Operazione Coniglio. Ma presentiamo i vari piani, Tommy. Presenta i vari piani. Giù, Piano Marrone, ragazzi. Piano Marrone. Dura solo tre anni. Tre anni, ma è totalizzante. Se entrate là dentro, vi sembrerà di star giocando, ma sono tre anni pieni. Il piano più costoso? In Svizzera, mortacci loro. Ma ci sono anche agevolazioni che possiamo vedere fra poco. Vediamo il nostro testimonial. Allora, quindi Piano Marrone. Conosci tanti altri peers, costruisci tanti corpi e metti i giochi in ordine da 0 a 1 letteralmente. Ah, questa è una persona che ha frequentato il piano, quindi. Sì, guarda un po'. Che dice? Esatto. C'ha ragione, sì. Esatto, esatto. Questo è il piano Marrone, è il piano Marrone. Mi raccomando, grazie della testimonianza, piccolo Enrichetto. I nostri studenti fatturano tutti... Bravo Enrico, bravo Enrico. Continua. Tutti i nostri studenti del piano Marrone fatturano cifre a cifre... Scusate, non ho capito. Adesso in live. Sto in live. Mi portate gli assegni? Mi portano... No, mi portano gli assegni. Ti assegni così? Sì, sì, sì. Sabrina, 2300 franchi. Complimenti a... Ah, no. È la fattura da babysitter. Ah, c'è tua. Ok. Vabbè, quindi se nel piano Beige già cominci a fare mettere fatture. Posso saldare dopo? Scade oggi? Cazzo. Ok. Piano Marrone, Tommy? Continuiamo. Ricorda? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Piano Beige. Piano Beige. Piano Beige è un pacchetto più consigliato per iniziare, diciamo. È anche obbligatorio. Vabbè. Tra l'altro, se non vi sentite pronti a iniziare dal marrone, questo non potete proprio saltarlo. Almeno, non per più di due settimane senza giustifica. Sono cinque anni, venti ore frontali, settimanali. Poi, sì, se volete pagare due speech in più, pure quaranta, a tempo pieno, diciamo. Dovete imparare proprio le basi delle formule matematiche che vi faranno diventare ricco. Abbiamo testimonianze qui, Tommy? Guarda, mi dicono dal team di no, perché stanno sempre a fatturare questi qua del piano Beige. Lavorano in continuazione, quindi passiamo direttamente al piano Indaco. Questo vi dice tutto quello che dovete sapere su questo piano qui. Allora, il piano Indaco è un piano advanced. Dovete per forza aver completato il piano Beige, se no non potete proprio neanche partecipare. È così proprio da provveditorato. Qui sono tre anni, non sono più cinque, sono tre anni, con una ventina di ore settimanali, con dei tutor dedicati, specializzati sulle varie discipline. Tutor di matematica, quello di fisica, quello di storia dell'arte, credo. Se vi intortate bene, poi a marzo-aprile c'è pure il campo scuola qui in Gentole, che è una bella esperienza. Il piano Indaco è più ostico dei piani precedenti. Dovete passare un esame finale, potete passarlo, se lo passate vi lasciamo il certificato della scuola per ricchi. Consegnate le marche da bollo in segreteria, per favore. Sì, marche da bollo. Vediamo, c'è uno studente, se non sbaglio, no? Sì, sì, ovviamente, sì, tantissimi studenti del piano Indaco. Impara a gestire gli impulsi ormonali, trova le barbabietole da zucchero e fatti le prime sigarette di nascosto prima di essere scoperto da tua mamma per aver carpistato una cicchia. Vai, vediamo un po'. Ciao, io sono Alessandro, ho 12 anni e ho fatto la scuola. Praticamente andiamo lì e ci sono questi insegnanti che ti spiegano le cose e abbiamo imparato un sacco di cose, intanto mi sono anche un po' rotto le balle, ma poi alla fine abbiamo imparato tante cose. Intanto ho fatto contenta alla mamma perché ho preso dei buoni voti e poi grazie alla scuola sono riuscito anche a capire come dovevo fare per comprarmi le carte del Pokémon e ho ottenuto questi Pokémon Shining che tutti i miei amici vi vogliono, però io non le do perché sono le mie carte preferite, però se non fosse andato a scuola sicuramente non avrei capito come fare per gestire tutta la mia collezione. Sono molto felice di fare questa testimonianza. Viva la scuola! Bravo, bravissimo! Ciao, io sono Alessandro, ho 12 anni e ho fatto la scuola. Grande Alessandro! Torna a scuola, torna a scuola subito. Bravissimo, questa attitudine sicuramente farai grande successo nella vita, farai aziende, exit, cartussi, davvero. e via, mi raccomando impegnati più nello studio però che mi sembra che non è il giusto metodo. Mi sembra che non hai il giusto metodo. Vabbè però piano piano diciamo, piano indaco... Piano piano, piano piano. Esatto. Vai piano ma lontano. Piano ma lontano. Piano ma lontano e qui entriamo, qui signori, entriamo nel gota, nel gota della parte della scuola per rippi. Qui si fa sul serio, non è un piano per tutti, molti dei vostri padri o nonni non hanno neanche fatto questo piano. Specie se è al sud, dove la dispersione ripistica è superiore al 20%. Ci spiace, combatteremo anche questo. Ah, dovete aver completato i due piani precedenti, qui purtroppo non si può fare... Non è passo a passo. Qui sono altri cinque anni che siete seguiti passo passo da tutti gli specializzati, un'altra ventina di ore settimanali, credo. Sì, cioè quella di religione, se volete saltarle e andare a giocare a calcetto, potete farlo, siamo abbastanza permissivi da quel punto. Sì, sì, sì. Ma qui però andiamo a scavare dentro il vostro animo, ragazzi. Qui proprio possiamo dire che nel piano ma lontano entri che sei una persona e esci che sei un'altra. C'è un esame finale selettivo, per cui non stiamo a pertinare le bambole. Altra peculiarità. Potete scegliere la sede preferita nel piano ma lontano. Con i tutor preferiti. Ci sono molte specializzazioni, perché non l'abbiamo ancora detto, ma... La scuola per Rippi ha oltre 40.000 sedi sul territorio italiano. 40.000 sedi. Testimonianze? Ne abbiamo? Abbiamo testimonianza? Eh, mi sentite sì, mi sentite sì. Vediamo un po'... Stanno che c'è il coniglio, e fra un po' c'è il pacchetto conigli. Eccolo qua, eccolo qua. Vediamo che ci... Ciao ragazzi, questa è la mia testimonianza. Ho frequentato scuola per Rippi, fino al piano liceo, e mi sono trovato benissimo. Ho ottenuto dei risultati incredibili. Ve lo consiglio, soprattutto se avete dei figli, potete portare anche loro in questo bellissimo contesto. Fatene il più possibile, in modo che ci siano nuovi figli pronti per questo percorso che è impegnativo. Però qui ci sono spoiler. Da risultati garantiti. Qui ci sono spoiler. Ci sono spoiler dell'operazione coniglio. Ma sai perché il problema è che al piano ma lontano questi stanno sempre in autogestione. C'è un cazzo da fare. Stanno sempre in autogestione. Comunque grazie, grazie per la testimonianza. E fate entrare quando il professore entra. Non fate la... Cioè, fateli passare perché sono lì anche per voi i nostri tutor. L'ultimo piano, il piano Renzo. Il piano Renzo siamo sull'Olimpo. Qui proprio ragazzi, qui pochi riusciranno a completarlo. Concentriamo, qui raggiungiamo il top. Qui imparate veramente le skill definitive per diventare veramente rippo. Ok? Ci sono tantissime specializzazioni. Trovate cose di arte, cose di matematica, cose di tecnologia. Di tutto, di tutto. La durata dipende dal piano di studi, se non sbaglio. 3 più 2, 2 più 3, vecchi ordinamenti. Abbiamo varie forme. Se sei matto come un cavallo puoi anche fare la masterclass di ricerca dopo, però devi essere proprio sadico. Sì, sì, sì. Qui non abbiamo, penso, testimonianze che non servono. Non servono. No, no, no. Non servono. Questo è tutto ragazzi. Abbiamo proprio voluto esagerare. Non abbiamo proprio badato a spese. E c'è di più ragazzi. L'operazione Coniglio. Tommy, cos'è l'operazione Coniglio? L'operazione Coniglio è una rivoluzione. Abbiamo detto prima, ve l'ha consigliato anche il nostro studente del piano giallo, di fare figli, perché funziona così il nuovo sistema. Tu crei lo studente, ma la lead te la chiudiamo noi. Te la chiudiamo noi. Fate figli. Pensate, ogni nuovo studente sarà attenzionato personalmente dalle forze dell'ordine e verrà costretto a presentarsi alla scuola per Rippi ogni giorno. Ma ora passo la parola alla persona dietro l'operazione Conigli. Lui veramente ci si è messo con anima e corpo. Ha sfruttato al massimo questi benefici. E quindi l'effetto sul suo patrimonio è stato incredibile. Giorgio, dici di più su quello che è successo grazie all'operazione Coniglio. Allora, molto, molto, molto facile. Allora ragazzi, il primo figlio che fate con l'operazione Coniglio, il primo referral che portate dentro al sistema, avete il 17% di sconto, ma sul patrimonio, non sul prezzo. Il secondo figlio diventa un 37% di sconto. Con tre figli, quella è la versione top, avete il 97% di sconto sul patrimonio a vita. Quindi se voi avevate dei soldi, ora avete un po' di meno. Però vabbè, comunque ragazzi, fate figli, operazione Coniglio, Conigli, via. Ma c'è sempre di più. C'è sempre di più. Qui sta arrivando la vera rivoluzione. Prendetevi un secondo per prendere tutto quello che avete sentito fino adesso. Il modo per fare il grano, dalla semina alla metitura. E adesso pensate al fatto che abbiamo disegnato uno schema, un triangolo imbattibile. Puoi fare entrare studenti nella scuola per Rippi e dividere il costo con tutti gli altri studenti. Una piccola, ridicola, possiamo chiamarla tassa. Ma vi starete chiedendo, ragazzi, ma quanto costa tutto questo ben di Dio? Tre anni, cinque anni, tre e cinque anni, ore di religione. Quanto costa tutto questo qui? Quanto cazzo costa? Niente, ragazzi. A parte il pacchetto marrone che mortacci loro in Svizzera costa l'ira di Dio, i successivi tre pacchetti sono praticamente gratis. Possiamo dirlo, sì. Legalmente non lo possiamo dire. Gratis. L'ultimo pacchetto, quello lì, il pacchetto, come si chiama? Il pacchetto Renzo. Il pacchetto Renzo. Dipende dall'Isegno. Dipende dall'Isegno. Ma non sono tanti soldi, quello lì potete stare tranquillo. Sì, però senti, ci sono delle malelingue, li vedo anche in chat, che dicono che istruire uno studente dal piano marrone al piano Renzo costa fino a 130.000 euro in Italia. Gli vogliamo spiegare perché questa è una cavolata, questi Acer. Sono degli hater. E tra l'altro, anche fosse, da oggi, ragazzi, potete pagare con l'applicazione a rate Clarva. Potete pagare con Clarva. Fai vedere, Tommy. Fai vedere la Clarva, clarva.com, clarva.com. Clarva è down. È down. Abbiamo rotto Clarva. Abbiamo rotto Clarva. Abbiamo rotto Clarva, ragazzi. State entrando tutti quanti. Grazie, grazie. Grazie mille. Viva la scuola per Rippi. Però che facciamo, Tommy, adesso? È rotto. È rotto. Ah, vabbè. Forse non hanno abbastanza, i server abbastanza potenti per supportare. Noi siamo potenti. Possiamo farli noi, server, no? Li facciamo noi? Li facciamo noi. Li facciamo noi. Con Synology. Con Synology, ragazzi. Con lo sponsor di oggi. Incredibile. Finalmente è arrivato il server. È arrivato il server. Quindi, che facciamo? Da Rotterdam. Direttamente da Rotterdam sono arrivati i nuovi NAS Synology. E niente, lo mettiamo qui. Ci permetterà di costruire il nostro server per ostare siti e prodotti come Clarva, in modo che non crollino durante un lancio. Esatto. E' questo. Ma potete anche condividere i vostri file in un cloud privato. Quindi immaginate di essere uno youtuber che fa un podcast sulla tecnologia e spende il 90% del tempo a preparare le gag, ha bisogno di supporto tecnico da parte degli eri. È un casino. Che però vivono in un altro paese. Come fai? Metti tutto quanto sul tuo server Synology e i file vengono sincronità. E si inizia automaticamente. Pazzesco. Fantastico, fantastico. Niente, Clarva. Se vi si rompe le iscrizioni alla scuola per Rippi, mi raccomando, mr.rip slash Synology. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo il banner. Eccolo qua. mr.rip slash Synology e passa la paura. Di server chat si avvena perfettamente con il suo VPN. Potete anche fare la vostra VPN. Pensate un po'. Quindi, veramente, ragazzi, non si può andare oltre. Tommy, questa è stata la gag più faticosa che abbiamo mai fatto. Abbiamo iniziato la stagione dicendo... No, è uscito fuori a un certo punto. Perché è arrivato ieri. Finché non arrivava il tuo cazzo di Nass, io non facevo lo sponsor. È arrivato, devo ancora scartarlo. Però no, è super... Sì, sì. È stata un'aggiunta finale. Però dicono, ma come gag? Ho già fatto il bonifico. No, ma il bonifico, tranquillo, lo prendiamo uguale. Il bonifico arriva. Poi, insomma, la scuola... Secondo me tu già sei frequentante della scuola per Rippi. Non lo sai, ma... Guarda qui, lascio la mia testimonianza. Mi sono fermato al piano ma lontano e sono diventato agente di commercio. Grazie, ho già regolato l'investimento e ora faccio serata 5 giorni su 7. Bravo, bravissimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi, ragazzi, fate la scuola per Rippi e non cercate di diventare ricchi. Vorrei anche spegnere subito le male lingue. Vedo già qualcuno in chat la solita scammata in cui se non finisci il percorso ti viene detto che non ti sei impegnato abbastanza. Se non finisci il percorso ti veniamo a prendere a casa i carabinieri. Fine 16 anni. Fine 16 anni devi finire. Lo devi finire. Non c'è storia. Lo devi finire. Poi, mi raccomando. Non esiste. Non esiste. Mi raccomando. Bene, bene. Sì, è stata una gag veramente impegnativa, devo dire. Ce la sei incavata, ce la sei incavata. Sì, sì, sì. Soddisfatti e rimborsati chiedono in chat. Ma dove andate? È impossibile non essere soddisfatti del piano. Puoi anche essere rimborsato. Non costa quasi niente. Hai perso 20 anni della vita. Ti ridiamo un applauso. Bene, bene. Torniamo sul... Bene, recupererai, recupererai. Torniamo al tablerone. Sì, sì. Come si deve. Senza gag. Tablerone senza gag. Senza gag dove si parla di intelligenza artificiale perché BARD ha lanciato le estensioni. Estensioni che già esistevano, diciamo, sono già un concetto che esiste su chat GPT. Ma in questo caso chiaramente parliamo di tutto quanto l'ecosistema Google e ci sono un po' di use case interessanti. Quindi fondamentalmente adesso vi permette di, mentre utilizzate BARD, integrare i prodotti tipo Gmail. Quindi potete chiedere a BARD mi trovi l'email dove parlo con Synology e mi fai un riassunto. Oppure mi trovi... ho visto tanti esempi sulla fattura. Mi trovi l'ultima fattura che ho pagato a questa azienda. E se non funzionare... Un giorno 15 anni fa faceva desktop search che faceva le stesse cose. Forse non potevi fargli delle query linguisticamente complesse. Sì, esatto. Non sono ancora... Cioè, ho visto che le query è un po' più complesse. A volte c'è sempre la solita allucinazione. Quindi a volte si inventa... Ho visto un esempio di un video americano dove si inventava dei commenti YouTube che non erano mai stati ricevuti. Però tendenzialmente ti dà la possibilità di... Magari non ti ricordi la parola chiave con cui andare a cercare quell'email. Puoi dargli il contesto. Oppure ci sono già dei prodotti che lo fanno. Che vai con matching di keyword, anche matching non esatto. Se ti sbaglia a fare lo spelling ti aiuta. Ovvio che ci sono delle query, immagino... Tipo, mi stai a trovare quella fattura che ho mandato tre giorni dopo aver mandato la mail a mio zio. Quello già è una query più complessa, ad esempio. Sì, esatto, esatto. Però vorrei vedere un po'. Alla fine a me puzza tanto di... Dobbiamo fare training su più dati possibili. Ci dai più dati? Vabbè, alla fine Google ha già accesso sui dati. Sì, no, finché è che... C'è anche un motivo per usare quello e non prodotti terzi, anche se probabilmente funzionano meglio. Per esempio, tornando al discorso delle fatture, per dire... Google, hey Bard, trovami tutte quante le fatture che ho pagato nel mese di agosto e te le butta tutte quante lì. Quindi... Al secondo che qui c'è gente che dice, il link porta a un sito strano. Ci hanno dato loro un M. Dovessimo continuare a collaborare con Synology, cambieremo il link page. Questo ci hanno chiesto di linkare. È uno shop, Monclick esiste da vent'anni, ricordo, ci ho già litigato con quello shop vent'anni fa. È uno shop. Non è sito di Synology. Esatto. È un reseller di Synology, quindi se volete comprare potete comprare da lì, però funziona solo dall'Italia. Se siete all'estero, cercate Synology su Google e non verrà attribuita a noi la conversione. Ma nell'animo, nell'animo lo sappiamo che è merito nostro. Anzi, scriveteci cosa fate col vostro NAS dopo. Quindi sì, diciamo, ci sono altre estensioni interessanti. Cioè, Google Flights è un'abbastanza pubblicizzata, quindi trovami i voli più economici tra febbraio e novembre che vanno da Roma a Milano passando per la Francia con sette giorni di pausa a Parigi. Quindi questo è carino, ok? Di nuovo, sempre un po' conversazionale. forse non si sostituisce completamente ad altro. E c'è anche YouTube. Quindi trovami canali YouTube o video YouTube su questo tema. Siccome la ricerca di YouTube è abbastanza limitata, si tratta solo di keyword, questo potrebbe essere un modo interessante di fare un po' di ricerca. Tipo, trovami un video YouTube su questo tema pubblicato prima del 2021. Su YouTube i filtri di base non ti danno queste opzioni. Lo puoi fare solo nell'ultimo anno. Invece magari in questo modo, dovesse funzionare in maniera corretta, potresti cercare un po' meglio. Vediamo, vediamo. Vediamo quanto è hype, quanto è voler cavalcare, quanto è effettivamente utile. Sì. Vediamo. Io non pianifico di usarlo, non pianifico di usarlo nel breve per queste cose qua. Sì. Un'altra cosa interessante… Abbiamo ancora valore mettere un po' di effort nell'organizzazione dei propri dati. Sì. Però lì penso che ancora abbia valore. Io ancora sono un po' maniacale, metto i label alle email, i file li organizzo con un naming che ha senso. Per me è ancora valore. Sono vecchio, sono boomer. Prendevo in giro chi usava la Hungarian Notation nel codice, che è tipo scrivere le variabili con il tipo davanti, prima che ci fosse syntax highlighting. E forse sarò l'equivalente del boomer che ai miei tempi usava la Hungarian Notation, è ancora più vecchio. Eh, vediamo. Diciamo che comunque strutturare i dati in un certo modo ti aiuta anche a trovarli tramite AI e sistemi vari, no? Quindi secondo me è qualcosa che dovrà necessariamente rimanere, però magari non devi essere più dettagliato al millimetro, ecco. Un'altra cosa interessante è questo double check responses, fondamentalmente ti dice quanto è sicuro di quello che ha scritto. A volte canna completamente, ho di nuovo visto gli esempi in cui era completamente sbagliato, specie matematici e ti diceva di essere sicuro al 100%. Però ok, gli esempi matematici sono un po' un problema diverso, perché non è estrazione di informazioni. Questo è più basato sulle fonti, quindi se ha tante fonti che confermano quello che ti scrive, ti dice, ok, sono molto sicuro di quello che ti sto dicendo. Questa è interessante, questa è una cosa molto bella, perché finora le critiche che più avevo avanzato ai large language model erano che devono produrre una sua risposta, non più di una, e do essere con certezza totale. Quello che mi piacerebbe facessero di più è tu gli chiedi una cosa e ti propongono più risposta e magari anche con un grado di confidenza. Questa è carina come cosa. Sì, 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 no, è carino. Mi piace. Diciamo, i commenti che ho visto online sembra essere ancora un po' troppo, un po' troppo confident a volte, però sicuramente è un buon passo in avanti. Mi piace la direzione, poi non so, l'implementazione, però mi piace un AI a cui, non so, se tu avessi un assistente perfetto, gli diresti dove potrei andare a mangiare e ti propone cinque cose diverse, no? Sì, sì, sì. Dici, guarda, questo pare che sia buono, però non sono sicurissimo, quest'altro ci sono sicuro come la morte che è un posto dove mangi bene, per cui una sorta di, talvolta, range di possibili opzioni e grado di confidenza. Sì. Mi piace. E un'altra cosa interessante che magari si collega anche a questo esempio è che adesso puoi non solo condividere le conversazioni che hai avuto con Bard, ma poi si può anche continuare, tu che hai ricevuto il link puoi continuare la conversazione da quel punto lì. Quindi questo è molto interessante, è vero? Esiste qualche large language model che accetta conversazioni a più di due persone? La conversazione non sarebbe a due persone in questo caso, fondamentalmente io faccio la mia chat con Bard, ti mando il link per dirti questa è stata la mia conversazione, si apre una copia sul tuo dispositivo. Diventa un altro contesto. E tu continui la chat per conto di uno se vuoi. Però esiste nessuna start-up che ha pensato di mettere un bot in un gruppo e interagisce nel gruppo con consapevolezza che sta parlando con più persone. Immagina un gruppo di dieci, immagina una chat, una group chat whatsapp, siamo tre amici e c'è il quarto che è un bot. E il bot questo dice guarda che Giorgio ha già risposto Tommaso tre mesi fa dicendo di questo. Sarebbe interessante. Sì sicuramente ci sono dei modi di interagire allo stesso tempo con un bot, specie quelli AI agent che abbiamo visto in passato, però non so quanto siano in grado di prendere in considerazione i diversi utenti e ricondurre i vari utenti a messaggi passati. Quello sarebbe interessante effettivamente. Ed è subito di indico Master AI, giustamente quello dovrebbe essere un buon utilizzo, però ecco forse dovessi, non lo so, è un'idea che mi è uscita così al volo, ma ci avrà pensato già un miliardo di persone. Sì su Discord probabilmente è vero, vedo qualcuno in chat che lo dice, c'è qualcosa, però ecco questa dinamica del proprio essere in grado di capire chi ha mandato i messaggi e interagire con persone diverse come se fossero persone diverse. Forse, forse non è così utilizzata ancora. Ok, secondo te perché? Non so quanto sia utile. Sicuramente da un punto di vista di growth il multiplayer è sempre una componente importante per quasi tutti i prodotti. Cioè tutti i prodotti che hanno avuto una crescita esponenziale, specialmente in ambito business, negli ultimi anni hanno cercato di aggiungere una componente per cui io invito te e collaboriamo insieme. Perché intanto cresce il numero di utenti in maniera molto più rapida e poi aumenti anche la retention perché siccome lavoriamo insieme su quel prodotto lo dobbiamo usare tutti e due. Però, non so, forse da un punto di vista di utilità il condividere la chat già è abbastanza. Alla fine, cioè diventa confusionario forse quasi per il bot ricevere domande da due persone diverse in contemporanea. Stai dicendo che alla fine il bot può sempre interpretare tutto come un unico contesto. È come se il bot ricevesse il messaggio e questo è tutto il contesto, leggi questo libro che in realtà è un libro in cui Giorgio dice A, Tommaso dice B. Il problema sarebbe interessante capire quando il bot interviene, immagino una chat in cui c'è dentro il bot che non ha dei trigger deterministici del tipo, se lo invoco, ma a un certo punto deve intervenire in maniera dei parametri, rompi le balle, fai casino oppure quiet, quiet, o intervieni, attenzione, faccia il bot. Wow, mi sta avvenendo voglia quasi di farci, non dico una start up, ma di espandere l'idea. Sì, 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 ma non sarebbe male se qualcuno riguarda questo video. Magari sa già indicarci qualcuno che ci sta lavorando. Anche, sì, sì, sì. E niente, poi in realtà, news su Bard, il controllo delle immagini è migliorato, quindi adesso se gli dai un'immagine dovrebbe essere più in grado di dire questa immagine è Giorgio che beve l'acqua, anzi no, le persone non le riconosce, cioè ti dice non lo posso fare. Però questo è l'ufficio di Mr. Rip. Prima il livello di accuratezza era molto più basso. Sembra che la guerra sulle AI si sta trasportando, si sta trasponendo, si sta spostando dal testo all'immagine ultimamente. Tutte sono migliorate tantissimo anche come qualità di immagine, di generazione di immagine, tipo MiGiorney, i Dalli3, stanno tutte andando spinte verso l'immagine per qualche motivo. Forse perché è un utilizzo più concreto e più anche monetizzabile, cioè cominciano ad esserci, tipo, so, l'ultima campagna di crowdfunding Kickstarter di Terraformi in Mars, a cui ho tanti peccati e tanti pleggi ho fatto. Si sono lamentati alcuni utenti che buona parte della arte sulle carte è fatta con MiGiorney, però a quanto pare funziona. I creatori hanno detto, oh, lo facciamo, si facciamo, hanno un accordo. Forse migliorare la qualità artistica di generazione di dati è più facile da monetizzare. Però mi sembra, non so, se tu percepisci che c'è un trend di, in questo momento, le energie stanno andando per migliorare la qualità del riconoscimento e produzione immagini. Forse il mondo delle immagini, il mondo grafico è quello dove si è trovata l'applicazione più pratica e immediata, cioè proprio sostituzione del lavoro uno a uno. Perché tu hai dei designer che spesso sono anche pagati bene, se sono bravi, però hai anche tanti designer che magari fanno lavoro basico e il lavoro che fai con un designer in realtà non è molto diverso da quello del prompt engineering. Cioè tu gli devi dire, oh, voglio questa immagine, devi avere questo feeling, devi avere queste caratteristiche. Però essendo art, diciamo artistica, è meno probabile che spari una grande cazzata, no? Sì, anche, esatto. Non devi essere precisato. Non devi dire cazzate. L'arte è difficile. C'è l'ultimo video che ha fatto Jumbo Drillo, tra l'altro, sul suo canale, che fa una specie di gara umano contro, cioè chiede a un suo amico di indovinare quale è stata fatta dall'umano, quale è stata fatta dall'AI e di giudicare anche quale è migliore. Spesso capire quale è umano e quale è AI è facile, però ha dato un prompt, ha pagato gente su Fiverr e poi ha chiesto all'AI e oggettivamente è una bella gara. Se io fossi un graphic designer che crea cose del genere, un po' mi cagherei sotto. Io quel video un po' l'ho spizzato, perché io anche ho fatto un video sponsorizzato da Fiverr, ho visto il titolo di quel video e ho detto, ok, questo è sponsorizzato da Fiverr. E secondo me lui ha preso un esempio pessimo in realtà per sponsorizzare Fiverr, perché... Irrilevante, da mio punto di vista è... ok, lato business sono curioso di capire la tua opinione. No, nel senso che io ho visto i disegni, quando lui pagava qualcuno poco, l'AI faceva un lavoro migliore, effettivamente, perché l'AI riusciva a darti un risultato ottimo e magari non ha il constraint del tempo. C'è un tizio che è col libro di Chiumbodrillo, il tizio che ti fa l'immagine per 5 dollari non ci può spendere più di 5 minuti sopra. Prendi gli ultimi tier ha speso 200, 200. No, esatto, gli ultimi tier non l'ho visto tutto il video, però gli ultimi tier non ci ha cambiato. La qualità e la qualità, anche a quello che ho preso 5, forse il più basso ha preso tipo 10 o 15, il prompt era abbastanza banale, anche l'AI non è che ha fatto un grande lavoro. C'è certo. No, ma infatti, per quello secondo me dico, nel mondo del design paradossalmente, per esempio nel mio video parlavo tanto anche di data entry, data entry mi fido ancora molto di più di un umano, preferisco pagare qualcuno su Fiverr che non lasciare fare tutto all'AI, perché magari mi ritrovo con dati completamente sballati e devo comunque fare double check, se devo fare double check a sto punto preferisco che lo faccia già qualcuno dall'inizio. Però sul design, quando si tratta di budget molto bassi, a sto punto l'AI secondo me fa un lavoro migliore, perché ha un stile comunque bello, particolare. Questa qui è divertente, quindi la faccio vedere. Ho un board game di carte, aspetta, che si chiama? Che si chiama? Si chiama Turbo Populisti, che sono 180.000 carte, è una roba incredibile, Turbo Populisti, che è un gioco di carte in cui ci sono i personaggi famosi, ci sta, che ne so, Parenzo, versanti politici, politici vari. E tutta la parte grafica è fatta con AI. Questo qui è Floris, però con nome finto, quindi ha fatto prendi Floris e mettilo qua. Non so, la Gabbianelli. Ecco qua. Tutte fatte con AI, quindi costo di produzione è piuttosto basso. No, ecco sì, secondo me lì si è trovato veramente uno use case super chiaro, che funziona bene anche perché, come dici tu, trattandosi di una cosa anche abbastanza artistica, non serve essere precisi, effettivamente. E c'è tanto lavoro manuale che può essere sostituito in maniera relativamente facile. Un altro ambito è quello del video. Video, traduzione di video. Sul video come stiamo a mettere? Oggi le AI nei video cosa fa? Generare video non stiamo ancora a buon livello, no? Beh, dipende dal tipo di video, però sì, magari non livelli altissimi. Però ho visto tante soluzioni, per esempio per la traduzione di video e il doppiaggio real time, diciamo. Quindi i prodotti che ti permettono di fare doppiaggio di video in italiano, inglese, spagnolo, eccetera. Sì, sì, quello è molto interessante. I'm unimpressed, direi. Nel senso che sì, ok, carino, bello, va bene. Non stai generando chissà che, è una piccola... No, certo, però, di nuovo, sono lavori manuali che richiedono tanto tempo, però sembrano essere facilmente sostituibili, almeno ad un livello base, lo teniamo sempre lì. Questi lavori creativi, sì, doppiaggio, chiamiamolo creativo, a un livello molto basso può essere rifatto meglio quasi da un AI a costo molto inferiore. Se vuoi le sfaccettature di più alto livello, devi pagare un umano esperto che lo sappia fare bene. Quindi su quale startup investiamo? Su Midjourney? Si può investire in Midjourney? Io Midjourney due soldi gli darei. It's not financial advice, però mentre OpenAI avrei dato i soldi, ma Midjourney ci buttiamo un chip. Non so come è strutturato, effettivamente, non so cosa hanno fatto di fundraising. Beh, sicuramente sarebbe stato meglio che investire in startup nel mondo del delivery. Ahia, come stiamo messi? Ecco, anticipavamo anche qua, nel pre-tablerone avremmo parlato un po' del mondo del delivery. In realtà... Posso dire che un po' mi dispiace il fatto che qualunque business fisico sta diventando una merito. Io penso adesso investi di aprire un ristorante, quindi è un incubo. Cioè, è un incubo. No, il ristorante penso sia... Il male, per forza poi le cose costano dieci volte tanto, perché piuttosto uno investe in una roba puramente digitale. Il discorso del delivery forse, ci stavo pensando anche l'altro giorno, forse abbiamo aspettative troppo alte per dei costi minuscoli. Questo è un po' l'Amazon effect, no? Amazon che ti garantisce la consegna gratuita il giorno dopo. E tu poi dici, ah, ma è normale. In economia di scala, economia di scala. È normale che sia così, invece no. No, il delivery vuoi più real time, è una persona che viene fisicamente. Non può costare poco. Anche solo pensare al delivery del cibo, che è super popolare. Tu paghi 3 euro per avere uno che aspetta il ristorante, ti porta il cibo in bicicletta dal ristorante a casa tua. È una cosa che non solo prima ti prendeva tempo, ma forse ti costava pure 3 euro di benzina andare a fare avanti e indietro al ristorante. Cioè, chiaramente se lo metti... Quindi cosa dovremmo fare? Capire che è normale pagare 15 euro di delivery, quindi diventa un servizio che o hai 10 amici a cena e quindi ha senso, non lo fai per te stesso. Ma infatti ha anche senso che non lo fai per una persona sola. Non è sostenibile anche ambientale. Tutti i punti di vista non è sostenibile. Sì, più che altro forse da un punto di vista umano, nel senso che ci sono tante polemiche su... O vivi in posti, in cui c'è uno, non so, in India dove hai quelli che lavorano a un dollaro, però se sei tipo in Svizzera non ha senso. Sì, esatto. Infatti qui ci sta delivery ovviamente, ma lo fanno direttamente quelli di Uber Eats, oppure gli stessi... Cioè it.ch dove in genere sono gli stessi shop che lo fanno già consegne a domicilio, quindi va bene. Sì, infatti questo è interessante. Allora io volevo parlare un po' del tema perché sono successe due cose di recente. Instacart si è quotata sullo stock market, credo americano, credo... Già è top... No, 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 questa è una comparazione tra i ritorni che tu avresti avuto investendo nelle diversi fundraising round di Instacart rispetto all'S&P 500. Quindi chiaramente questi grafici sono peggiorati dal fatto che tutte queste startup, diciamo past startup, quindi tutte queste scale up, hanno ricevuto un taglio abbastanza importante alla valutazione negli ultimi due anni, per via di... Anzi, l'ultimo anno è qualcosa, anno e mezzo dai, per via di tutto il discorso di tassi di interesse... È legale fare, quando finiscono le lettere che fanno? Eh, non lo so. Ah, come le colonne su Excel? Sì, 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 penso di sì. Non so se qualcuno ci è mai arrivato la Z. I è tra quelli più... I è tanto, eh, ma Tesla neanche è arrivata, forse Tesla. I è tra quelli più avanzati che ho visto, tra virgolette. Però che è successo? Il primo giorno in realtà è andato molto bene per Instacart rispetto al prezzo a cui si volevano quotare. Poi al secondo giorno più o meno reverse to the mean, sono tornati a quello che si aspettavano. E al giorno d'oggi la valutazione di Instacart dovrebbe essere di circa 11 miliardi, che è scesa da 40 quasi nel 2021. Quindi chiaramente lì c'è stato un bel impatto. Ma sono quotati tipo l'altro ieri? Sì, 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 l'altro ieri. L'altro ieri, ok. Quindi abbiamo due giorni di storico. Però ecco, comunque si parla di... Instacart, siccome è una cosa principalmente americana, ha un prodotto simile a quello di Uber Eats Groceries. Ok, quindi non è Gorilla, non è Getir, che ti porta nel cibo in 15 minuti. Quindi di solito ci vuole un po' più di tempo. Vedo qualcuno anche dall'America che lo usa, ci potrà confermare. Di solito le... È un ottimo servizio, dicono. Sì, sì, sì. Quindi secondo me questo business model qui ha senso. Funziona. Magari eventualmente ci sarà bisogno di aumentare i delivery fee. Non lo so. Per quel discorso più umano che facevamo prima. Però io preferisco... Amazon aveva Fresh and Goods e l'ha discontinuato. Per cui anche Google, quando aveva Google Shopping Express, la parte perishable, quindi la parte diciamo grocery, ma quella che deperisce di frutta e verdura, l'ha discontinuato. E quindi faceva soltanto non più same day, ma next day delivery o later. Quindi non lo so. Ci sono dei colossi che hanno deciso un attimo di glissare su questa cosa. Sì, però... Allora, qual è il discorso lì? È anche un discorso di rischio e di gestione. Cioè se Amazon fa la parte di grocery delivery per prodotti fresh, allora lì hanno anche il rischio di magazzino, di gestione, eccetera, eccetera. Invece Instacart lavora già sulle spalle di aziende che si stanno assumendo quel rischio lì. O Uber Eats Grocery, loro vanno dalla Conad, che già ha i prodotti e fanno la spesa letteralmente lì al posto tuo. Il concetto di Instacart è un po' questo. Poi c'è Bitone chiede... Ma un round deve essere necessariamente più grande? E questo l'ho sempre chiesto anch'io, ma sembra una domanda stupida e non volevo farla. No, 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 non deve essere necessariamente così. Anzi, l'altra startup di cui volevo parlare, Getir, è un esempio di un'azienda che è passata da... Che ha perso 2.5 miliardi di valutazione nell'ultimo round che hanno fatto qualche giorno fa. Beh, qui Instacart dice che a un certo punto vale la ruota 39 miliardi e ora vale 10, no? Sì, esatto. Quindi loro hanno perso tanto. Ovviamente qua c'è il paywall. Vabbè. Tanto tolgo lo sharing. Però ecco, invece dall'altra parte c'è Getir, che era un'azienda che era anche in Italia, ho scoperto, non lo sapevo. che faceva consegne di delivery in 15 minuti, quindi lì è un discorso diverso, hanno i loro magazzini strutturati in un certo modo, in modo che il cibo ti arrivi subito. E già da un paio di mesi hanno annunciato che si sarebbero ritirati da Spagna, Italia e Portogallo. Infatti l'altro giorno ho aperto l'app, non sono trovato niente, ho detto che è successo? Non so anche cosa fanno questi qua. Eh sì, è proprio, è tipo gorilla, delivery in 15 minuti, di grocery. Quindi non è lo stesso discorso, spendevano un sacco sia in promozioni che in sponsorizzazioni, solo che bruciavano 100 milioni al mese e quindi poi sì, di recente hanno fatto l'ultimo round dove la valutazione si è abbassata di, secondo me, solo 2.5 miliardi, perché rispetto per esempio a Instacart che è passata da 40 a 11, stiamo parlando di numeri diversi, e sì, alla fine hanno raccolto questi 500 milioni. Sembra che potrebbero... E P-001 ho preso con Getir. Sì, avevano offerte assurde, infatti secondo me spendevano troppo. So quelle solite storie che dicevo anche prima, per fare acquisizione selvaggia si va in negativo, però non sono più così simpatici gli investitori quando fai cose del genere, no? Sì, esatto. Un piano di profitability essere richiesto abbastanza nei round presto, no? Sì, diciamo, non necessariamente, però in questo momento storico diventa importante perché c'è poca liquidità. Ho trovato Instacart valuation over time, tra l'altro su qui è alla IPO, credo, e visto che ha perso già un altro 10%, siamo tra l'altro, sotto i 10 billion. Sì, siamo lì intorno. Diciamo che, sì, la vedi, Giulio e lui hanno dovuto fare veramente una, tipo, doppio, probabilmente doppio increase di capitale perché stavano scalando a velocità incredibile. E poi i problemi sono iniziati per loro dopo l'estate 2021, perché tutti quanti si aspettavano la crescita che c'era stata durante il Covid per questi tipi di prodotti, però ovviamente si è ridimensionata la cosa. Non penso che sia spesa in 15 minuti. Instacart no, ma Gator sì. Infatti là volevo venire alla differenza. Instacart comunque ha fatto 2.5 miliardi di revenue l'anno scorso, di cui 428 milioni in profitto. Quindi da una parte hai un'azienda che fa la spesa in magari un'ora, però a livello di unit economics sembra funzionare, dall'altra hai Gator che spendeva 100 milioni al mese, però al giorno d'oggi è valutata ancora di più rispetto ad Instacart. Mi chiedevo un po' il perché. Perché ha più utenti soddisfatti, perché altro non stanno pagando, cioè qualcuno sta pagando. Sì, forse è più potenziale, anche se si stanno ritirando dai mercati, appunto Spagna, Italia, Portogallo, quindi non lo so, anche quello continuerà a funzionare in US, in UK. Non ridosse. Domanda interessante, sono te queste fluttuazioni così ampie rientrano nella efficient market? A parte parliamo di aziende private, quindi di efficientissimo non c'è. Il private equity, ci sono investitori che conosciamo, pure i famosi, hanno fatto un sacco di soldi perché hanno l'occhio, no? Qui ci sta che non è un prezzo, non è sul mercato. Quando era private, quindi quando stava qua, le valutazioni erano fatte sulla base della fiducia, delle aspettative. Sì, e poi in teoria basta una persona, ma non è così, però in teoria basterebbe una persona, che ne so, faccio un nome softbank, che ti dice, guarda, secondo me WeWork vale 30 miliardi, ti dai soldi, la tua valutazione è a 30 miliardi, anche se tutti quanti pensano che sia 5. Se il lead investor è incentivato, magari in questa crescita qualcuno ha speculato la grande, c'è qualche lead investor che è entrato presto, che è uscito a un certo punto, non lo sappiamo, tutta roba... Ci sono un po' di polemiche nel mondo investitori, Silicon Valley, che dicono che alcuni investitori grandi continuano a fare da lead investor in tutti i round successivi delle aziende per continuare a pompare i loro sheet di bilancio finché non si arriva all'IPO. Gli angel investor non è quelli un po' più istituzionalizzati che investono seed, pre-seed, vogliono fare 10 per e uscire molto presto. E' abbastanza noto. E' interessante, quindi in Svizzera non si usano tanto servizi di questo tipo? No, la gente li usa, ma sono appunto Uber Eats, che ha i suoi costi, vanno sempre sconti per qualche motivo, però ecco anche Uber è un'altra azienda che per tanto tempo, non so se adesso è profitable... Sì, sì, sono riusciti ad andare in profit. Però ecco, era un'altra di quelle che poteva fare la fine di una roba del genere se non fosse, se non avesse avuto un salto in più. C'è hit.ch, che però anche lì è in convenzione con i singoli shop e molti fanno delivery in prima persona. si usano, non costano pochissimo i delivery, però sai, costando tanto anche il prodotto, no, e te pigliamo due pizze a 5 euro e via, no, qui comunque a 100 franchi i delivery ci arrivi se sei anche due persone. Perché comunque è un'altra cosa che non sopporto, è come i ristoranti applichino stesso prezzo a takeaway, delivery e gente al tavolo. A volte è anche più alto, a volte è anche più alto. Wow, cioè per me è criminale. O dentro c'è un costo implicito di delivery... C'è il costo della tassa di Uber Eats, che mi sembra 20-30% dipende dal paese. Eh, però chiede anche, madonna mia, 30%? Mi sembra... Wow. Uber Eats, vorrei dire una cagata, eh. Io ho la pizzeria sotto casa qui in Svizzera che take away ti fa lo sconto. Sì, dice, on average Uber Eats takes anywhere from 15-30%. Ma è criminale, è una roba che non riesco, faccio difficoltà. Salutiamo Uber, eh, stiamo scherzando qua ovviamente. No, c'è, anzi, se volete sponsorizzare o ci mancherebbe. Sarebbe un bello sponsor, durante la live che ti arriva... Io lo uso troppo, però... In Germania c'è Picnic. Ok, non la conosciamo. Vediamo come si evolverà questa... Federico Bd ci dice che Max Fosch è stato il ruolo più ricco del mondo per 7 minuti perché ha creato l'azienda con un trillion di share per spiegare la produzione over the counter. Sì, sì, ho visto il video. Mi sembra che sia lui per strada che cerca di vendere... Ha cambiato un'azione su un quadrillion a 50 sterline, se non sbaglio, me la ricordo. Sì, 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 sì. Bene, ragazzi, siamo in chiusura. Vi ringraziamo il solito che ho perseguito. Sì, la gag è durata abbastanza. È stata una bella gag impegnativa, speriamo che... Vi promettiamo, faremo il nostro meglio per non fare altre gag. Però dovete anche capirci, ragazzi, noi abbiamo un problema. Noi abbiamo un problema e Tommy non vuole andare a farci curare, come anch'io. Ci teniamo questa addiction alle gag. E purtroppo ogni tanto arriverà a voi. È una qualità. Mi assicurano che la gag passiva non fa male, come il fumo. È una roba. Sì, sì, sì. Ogni tanto vi toccherà subire. Sicuramente non grandi come questa qui. Sì, questo è troppo production value. Però quando ci offre un materiale così... Per fortuna non c'è frequentemente questo tipo di materiale di qualità. Esatto, esatto, esatto. Una certa qualità. Ciao ragazzi. Piano marrone. Ciao ragazzi. Piano marrone per tutti. E mi raccomando, usate Clarva. Ciao, buona. Ci vediamo stasera all'interview a Cristian di Fantasia Store. Ciao. 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 . Ciao.